Diciamo anche senza necessità di una sollecitazione istituzionale. Ovviamente era successo che c'erano stati dei lavori di adeguamento, non era immediatamente chiaro quando avrebbero avuto termine. Diciamo che mi risulta che siano terminati e quindi il servizio si è ripreso, mi risulta, ma mi confermerà. L'assessore comunque ne approfitto semplicemente per ringraziare l'assessore per essersi comunque attivata e per chiederle se nel medio termine c'era qualche volontà da parte di qualche struttura aziendale di mettere in discussione questo polo ambulatoriale che comunque continua a offrire in assenza della Casa della Salute un servizio prezioso per un pezzo importante di territorio genovese. So che questo servizio è molto apprezzato dai cittadini che vorrebbero, diciamo, nei limiti del possibile perché nel lungo periodo, come diceva Keynes, siamo tutti morti, ma nel breve e medio termine vorremmo capire se c'è una sufficiente garanzia di continuità di questo servizio importante per il territorio.